Siamo in diretta con il TG Tenerante da Piazza Castello dove si sta inaugurando la casa del tennis a Palazzo Madama. Da domani iniziano le gare delle ATP Final. Tutto il mondo guarda Torino al centro protagonista del tennis, ma non solo. Oggi si apre il Village e domani partiranno le gare. Noi siamo al centro della festa, nel fulcro con il nostro TG Tenerante, che è a Palazzo Madama, che per queste giornate si trasforma in casa tennis. Camilla Nata è lì e ci colleghiamo con lei. Diamo buongiorno a Camilla e a tutti i suoi ospiti. Buongiorno Camilla. Grazie, buongiorno a voi. È vero, è il grande weekend d'inizio delle ATP Final per il secondo anno a Torino. E se l'anno scorso è andata molto bene, quest'anno andrà davvero ancora meglio. E dobbiamo sottolineare che se da domani cominceranno i match sotto rete dei campioni, certo la città di Torino non resta a guardare. Allora siamo nella corte medievale del complesso juvariano di Palazzo Madama. Sindaco, è tutto pronto per il taglio del nastro. Possiamo procedere intanto. Questo è un momento topico, siamo proprio al centro dell'inaugurazione. Ecco qua, Sindaco, Assessori, Camera di Commercio e naturalmente il pubblico pronto a varcare questa soglia incredibile. Grazie. E la casa dei torinesi, ma è soprattutto la casa di tutti gli appassionati, Sindaco. Sì, sicuramente vogliamo sia una grande edizione delle ATP Final, gli otto tennisti più forti al mondo a Torino. Saranno giorni davvero importanti per lo sport, ma vogliamo davvero siano giorni per tutta la città, per le torinesi e i torinesi, ma anche per i tantissimi turisti e i supporter che arriveranno qua nella nostra città. Ci facciamo trovare pronti in questo luogo che è Casa Tennis, che sarà aperto davvero sempre con tante iniziative e penso davvero sia questo il miglior lavoro che potevamo fare insieme alla Regione, insieme alla FIT, alla Federazione Italiana Tennis e soprattutto insieme alle ATP che hanno creduto fortemente a Torino. Grazie Sindaco Lorusso. Assessore Enrico, Assessore allo sport della Regione, questa è la casa di tutti gli appassionati di sport, non solo sport in generale, ma in particolare il tennis. Ecco, in che senso casa? Questo è il luogo dove tutti i torinesi potranno rendersi conto di quanto questo evento è significativo per Torino, ma soprattutto per il nostro territorio e per la capacità nostra di saperlo valorizzare. Il lavoro fatto alla Regione, insieme alla città di Torino, ad ATP, insieme alla Federazione Italiana Tennis, sta dando davvero dimostrazione di quanto questo sistema che abbiamo creato di eventi sportivi faccia la differenza e i torinesi in questi giorni se ne accorgeranno. È vero, e se ne stanno già accorgendo i torinesi perché salutiamo anche l'Assessore Carretta e tutte le altre istituzioni, il protopapa, insomma veramente sono in tantissimi qui oggi. Però dicevi, i torinesi se ne stanno accorgendo perché la città è piena di turisti. Massimo Lanari ha visto per noi come stanno andando le cose, quindi vediamo questo servizio insieme. C'eravamo lasciati con la vittoria di Sverev, le emozioni con Berrettini e Sinner, un pubblico al 60%, ma anche il caos biglietti. Quest'anno non ci sono gli italiani, i campioni già si allenano da diversi giorni senza sosta e soprattutto le ATP Finals attirano sempre. Primo grande evento sportivo a Torino senza restrizioni anti-covid. 12.000 spettatori a partita. E chi si rivede? Il turista straniero. Il dato che ci rende più orgogliosi è quello dell'affluenza di pubblico estero. Siamo ormai prossimi al 32%, che è un dato straordinario. Non lontano da quello che è stato registrato in una megalopoli come Londra nelle ultime edizioni della manifestazione. Tra gli albergatori c'è grande ottimismo. Sta direi andando bene, è ancora influenzato da un clima internazionale un po' particolare e soggetto ancora a prenotazioni last minute. Ma a sperare sull'impatto economico delle ATP Finals è tutta la città. Lo scorso anno l'osservatorio di turismo Torino e provincia ha calcolato una spesa media di 200 euro al giorno a spettatore per una permanenza media di tre notti. Sì, diciamo che c'è stata tantissima gente sicuramente in arrivo, un po' come dicevo limitato, sicuramente anche per l'utilizzo che avevamo per quanto riguarda la struttura, anche perché poi c'erano le metrature da rispettare. Speriamo che ci sia un bel flusso di persone che vengono in città, di turisti che vengano a visitarla, sì, speriamo in bene. Lo scorso è stata una bella settimana, speriamo che quest'anno sia ancora meglio. Perché pare che uno spettatore su tre venga dall'estero. Noi siamo qua che li aspettiamo a braccia aperte. Vice Presidente della Camera di Commercio di Torino, Ezio Pompiglio D'Alicandro, allora abbiamo varcato questa soglia e raccontiamo che cosa avverrà dentro questa casa Tennis, perché saranno veramente tanti eventi, sia di carattere gastronomico che di discussione e dibattito. Assolutamente sì, la Camera di Commercio con le associazioni del territorio ha colto questa occasione di valorizzare questo asset meraviglioso con gli asset del nostro territorio e quindi con i prodotti della nostra gastronomia. I nostri maestri del gusto, quest'anno nel 22 è stato rinnovato, sono ben 222 i maestri del gusto torinesi, la nostra enoteca dei vini del Piemonte, e quindi i formaggi di Torino Cheese e i cittadini potranno venire qua prenotandosi e assaggiare i prodotti del nostro territorio, le eccellenze del nostro territorio. Una bella, ci saranno occasioni per fare addirittura le colazioni qua all'interno della casa. Meraviglioso, noi vogliamo cominciare subito. Grazie Vice Presidente, abbiamo raccolto con noi i ragazzi dell'IFSE, che è questa scuola professionale di alta cucina di Piobesi Torinese. Siamo in compagnia di Agnese per raccontare che cosa c'è su questo tavolo. Allora, abbiamo una selezione di prodotti della Camera di Commercio di Torino e quindi maestri del gusto, vini Torino Doc e formaggi Torino Cheese, insieme a tantissime altre eccellenze della regione Piemonte. Ad esempio abbiamo prodotti da forno come il pane della tradizione al lievito madre, i grissini stirati torinesi, i torte create in vasocottura, la coppa ATP in cioccolato gianduia, una selezione di salumi, formaggi tipici piemontesi e la focaccia classica e innovativa, quindi creata con ingredienti tipici e particolari. So che forse i ragazzi non sono tutti inquadrabili, però prendiamo almeno dei segni. Signore, se venite qui accanto a me, anche se impallano un po' la telecamera, non importa, è tutto molto live. Ricordiamo che qui gli appuntamenti saranno veramente tanti, perché ci saranno, è vero, le merende sinoire, ma ci saranno anche tantissimi dibattiti. Vi do soltanto qualche piccola anticipazione su quello che sarà il programma di oggi. Noi stiamo attendendo due regine del tennis italiano, non vi dico nient'altro, vi lascio immaginare, e poi anche un altro campione. Vi daremo tutti i dettagli nel corso del prossimo TG itinerante. Saremo per l'occasione in un altro punto nevralgico che è rappresentato dal Fan Village. Io direi che a questo punto noi salutiamo con i nostri maestri pasticceri e panificatori l'arte bianca, un'arte bianca senza confini. Grazie davvero e ci rivediamo questa sera.